Buongiorno dottoressa, cosa si intende per ipoacusie congenite? Buongiorno, per ipoacusie congenite si intende quell'insieme di deficit uditivi neurosensoriali, ovvero che dipendono da problematiche dell'orecchio interno o del nervo cocleare. Queste ipoacusie se non trattate tempestivamente possono determinare delle problematiche dal punto di vista comunicativo, linguistico, ma anche cognitivo e sociale, inficiando così la traiettoria di vita del bambino, come correttamente dovrebbe svolgersi. Quindi l'obiettivo è quello di seguire tutte le tappe dello screening audiologico neonatale, seguire la sorveglianza, ma soprattutto indirizzare il bambino, nel momento in cui abbiamo un sospetto importante di ipoacusia, alle cure dello specialista otorinolaringoiatra o audiologo e degli altri specialisti che si interfacciano con esso, in modo tale sempre da poter individuare precocemente l'ipoacusia e trattarla quanto prima.